Il secondo concorrente della mattinata è Jonas Philippe della Germania di anni 23 che eseguirà nell'ordine Bach, adagio e fuga della prima sonata in sol minore. Lipitzer, dallo studio numero 18, variazioni adagio, mosso, ritmico e marcato dalla tecnica superiore del violino. Sivori, studio capriccio numero 7 per violino dai 12 studi capricci opera 25 di Fulvio Luciani e Mozart, concerto in sol maggiore KV216, primo movimento e cadenza di Franco. Dopo questo concorrente ci saranno 10 minuti di intervallo. Il secondo concorrente ci saranno 10 minuti di intervallo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.